Segnali positivi per il settore della ristorazione che dopo anni complicati torna ad ottenere dati importanti sfruttando le festività pasquali, il weekend lungo del 25 aprile e quello del primo maggio. Partiamo con un bilancio come è andato il lungo weekend di Pasqua. In tutta la provincia si è registrato Pasqua, tutto esaurito, anzi era da tempo che non si vedeva tutte queste prenotazioni, addirittura da qualche settimana molti ristoranti erano tutti pieni. Logicamente Pasquetta poi dopo è un po' a scemare, però diciamo che sia la costa che l'entroterra è regito bene al weekend di Pasqua. Quello che soprattutto poi Pesaro in più aveva, a confronto magari ad altre città, è che c'erano dei tornei organizzati sportivi, quindi era praticamente full, tutto pieno e soprattutto gli alberghi non offrivano la pensione completa, quindi c'era un sacco di gente che girava per andare a mangiare e poi logicamente si è riversata nei ristoranti. Dunque finalmente un sorriso dopo la pandemia e i tanti rincari. Quest'anno è la prima volta che si ritorna a dei numeri e delle cose che sono pre-pandemia. L'unica cosa che a differenza prima della pandemia è cambiata fino adesso sono tutto quello che è stato il percorso, quindi i rincari che ci sono stati, i due o tre anni in cui purtroppo la nostra categoria si è dovuta indebitare e quindi adesso è l'ora in cui noi dobbiamo pagare tutto questo. In questo anno insomma c'è stato un aumento più o meno dei costi generali intorno al 50% e non sono stati praticamente riversati nei clienti e abbiamo dovuto assorbire quel sovraplus di spese senza poi poterli scaricare. Ma qual è la previsione in vista delle prossime ed eminenti festività? Il punto del 25 aprile sicuramente potrebbe essere come Pasqua perché il punto è lungo, la gente si sposta, Pesaro, ripeto, confronto magari ad altre città ha sicuramente degli eventi sportivi che potranno portare un sacco di gente qui a Pesaro e se poi qui tutto adesso è in base al tempo, se c'è il sole penso che la gente si gira, si sposta, si muove senza nessun problema anche perché Pasqua è stato anche determinante il tempo diciamo bello quindi c'è stato il sole, non è piovuto anche se un po' freschino la sera però voglio dire tutto sommato è stato delle condizioni climatiche favorevoli per far sì che la gente sia spostata sia dal mare verso l'entraterra che dall'entraterra verso il mare.